La mia vita è stata fatta Cosa ti pensi, Santi? Penso che le tostine hanno chiuso a restare senza donne Non restano solo i fonsi E ti fa poco? No, poco no, ma con tutta questa gente Ormai le vini in sport nazionale Tu sai che con tutti questi foresti Fadiga a dormire? No dormo, no dormo cio Ehi coppia Ahahahah! Take it, Belfons! Ma di che? Guarda, guarda come ci pattisce! Ha la faccia destinativa ingordi! Ahahahah! Beh denuncio! Ma di che? Take it, Belfons! Now! Ma di che? Ahahahah! 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 No, questo non lo è, questi sono due funghi, vedi che hanno un colore di braccia sopra, guarda. Sì, sì, esatto, no, no, questi qua non lo sono. Non ho mangiabile, questo è il tarazzole. No, no, questo è una massa di tamburo, questo non è buono. Questo è tamburo? Quella lì, quella lì è una massa di tamburo piccola. Ehi, Santi, allora? Mi hai trovato? Eh, due o tre. Non so se ti aggiano. Non so se ti aggiano. Ti aggiano? No, ti aggiano. Eh, no, perché se no mi metto il canazio e non so se ti aggiano. E io non so se ti aggiano. E tu che ti dica che sono se ti aggiano e non so se ti aggiano. No, basta che non ti metti come ti dimostra, perché io non so se ti aggiano e non so se ti aggiano. E tu lo dico perché mi hai, fai dei passi in giro, cusci, che ti è esastato e ti posti. Tu è il solito mafio, ti ghi anche l'aiutante. L'aiutante mi sono portato, sì. Io credo che mi sono portato l'aiutante. Tu mi fai una brucia mia. Possiamo venire grandi amici con l'aiutante. Eh, bravo, bravo. Hai capito? Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, stanni bene. Ciao. Ciao, tensioni. Questo posto chi te lo ha insegnato? Da quando te lo ha insegnato non ci trovo niente. Questo posto chi non parla da solo, non ti mensegnato, non ti mensegnato. Si, si. Basta senti, matatakituna. Pensate un po' come te lo ha insegnato. Cos'è ti giù, Belin, ma? Vedi. Oh, Belin, ti venne lasciare un po' qui. Che meraviglia. Tu, mia, che proprio ti mi fai girare l'anima. Ti venne lasciare anche un figlio in te. Che meraviglia che è. Che bello, bello sueno. 13 belli fusi. Quattro stamattina. Perché se ti lascia i fusi cammini da un'altra parte e ti passi. Eh, lo so ti succede. Però l'anno bene che ti ando da re e che lo ho visto a me. Eh, succede anche quello eh. Un tinello. È. A mia mogà è nata e mochè. Sei che non fosse qualche di natro. Adesso si mi gaspilava qua. Dai. Beh, già andiamo. Eh, fin l'ho trovata, dottor Eli. Ebbè, fin l'ho trovata un po'. Non so forse come penso. Che vieni a cucina oggi? Ma secondo me come penso che non ci tengo. Eh, ora la città di avanza, avanza, non la bilanciano in mente. C'è un sacco di alimenta comunque. Quello che ti vuoi, l'importante è il peso. Mi metto anche questa lappa qui, che è una meraviglia. Lì veramente di topo è risparmiata. Non è che bello, non è che bello. Mi dobbiamo pensare in due volte che non stiamo male. Beh, pensaci in due volte, pensaci in due volte. Questa è lì, ma lì ho 3,40 kg, 5 kg. Può pesare. Questo è il grande peso. Questa è la mezza lappa. Vedi che i soliti funzetti stanno qui? Sì, sì, sì. Mi lascia di crescere, no? Sì, sì, sì. Lascia che vedi. Sì, 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 sì. Comunque oggi vedi quanti tenei altro decimino? Quanti litri, 5 kg? Sì. Non vedi che tenei due kg decimino, ma hai due kg dell'ape. Due kg e tre. C'è un kg e mezzo e tre kg. Ti ha perso di un kg e due. Un kg e due, va bene. Mi spiace, sì. Comunque stamattina ho incontrato a Yolanda, che è l'unica donna, proprio l'eccezione delle donne, che hanno avuto il cammino. Vabbè? Sì, sì. Vabbè. Mi penso che sia sempre buono. Ti dici? È messaggio. Boh. Agia anche tanto, però le agia tantissimo. Agia, ma... Ne atteggiamo molto bene. Eh, va bene, ma fa bene. Vabbè. Questi sono belli fusi. È un bel luogo. 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 Non credo, non credo proprio. Ma chiedi. È perso in due. No, chiedi. È perso in due. No, chiedi. È un bel luogo. Oh, interroga mia. Mi ha visto. No, niente, niente. Ti chiedi. Quando vi incontrò, lei la mia aveva interrolla la nava cianini come ti. La nava cianini per come veniva? Però io... Pari due formigli. Due formigli. Cianini, cianini. Eh, sì, sì. Chiedi. Quando tu ciamini, io ciamini, tu ti chiedi. Sì, sì. Guarda questa storia qui. I tuoi posti, i tuoi posti te ne insegnano tanti anche a me. Ma qua. E quando non ne faccio ti muodici. Eh, sì, sì. E questo, quello là di Scasci. Ti me l'hai detto non ne faccio. Però parliamo di altri. Ti parli sempre solo di quello che non ne faccio. Parliamo di tutti gli altri. Ma di quali? Di quali? Non so. Tu sei benissimo. Che dopo che ti hai passato, ti chiedi. Tu sei benissimo. A noi raggi, a risonanza ti chiedi. Tu sei benissimo. Tu sei benissimo. Tu sei benissimo. Lasciapai. Niente di quelle cose lì non ne parliamo. Eh, non ne parliamo. Ti mi metti in pittina angoscia. Sì. Anche manca un po' di vergogna niente. Ti hai perso. Eh, va bene. Ho perso, vabbè. È nato male un altro giorno. E vediamo, eh? Dai. Vediamo, eh? Dai. 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 Ragazzi, dai, andiamo. Non facciamo aspettare il povero Magù. Dai, andiamo, ragazzi. Buonasera. Ciao. Buonasera. 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 Vorremmo come veniva. Spera vogliava. Spera vogliava. Ma, l'Inglese è libero? Sempre viene con la sindrome del Stukulmo. Ormai sono nuov靡ale. e le vostre donne? e ne sono scappate sono andate tutte da Magoo secondo me un Magoo che sa fare quelle donne o le ha rotto del sesso tipo Michael Douglas ma cosa dici figlio ormai le vedo anzi che fa da schiavo domenica passavola portai all'autoletto di Saravale pensai un po' qui una vicina di qua di Magoo mi ha detto che le donne sono stifiche di stagione che mancano tanto scianti e sanù secondo me è un momento da dire e 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 che succede? mettitelo poi ti spiego e 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 adesso mi spiegate stavolta l'amo deciso tutti insieme eh e e e e brasi i e e e e e altri sono contenti. Comunque stanno ti liberemo, non ti preoccupare. Liberateli, pazzoidi, liberateli. Siamo alle solite, io sono preoccupato con questi cambiamenti climatici, la stagione dei funghi si è di molta allungata, se continua così voi sarete fuori di testa per tutto l'anno, speriamo bene. Comunque io vorrei capirla questa vostra malattia, vorrei capirla, domani portatemi a funghi con voi. Siamo mica parenti, vedi più simpatico prima. Se ti mi porti il cavagno magari. Meggio di noi, ne vedi fino a troppi mesanichi. Brexit, shall we bring him? I think it would be a big mistake. M Grazie a tutti 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 Grazie a tutti